Oggi la giornata l'abbiamo chiamata così, l'immigrazione come risorsa per le comunità, pratiche di buona accoglienza. Ed è fondamentale questo, far comprendere a tutto il Paese che esistono centinaia di migliaia di buone pratiche in tutto il Paese, fatti dai comuni, piccoli comuni, fatti dalle scuole, fatte dalla cooperazione, fatta dalle associazioni cattoliche, fatte dalle fondazioni. Ci sono pratiche straordinarie sul territorio, perché proprio in questo momento la cosa che secondo me più non va fatta è polarizzare uno scontro e volare molto più alto e scendere anche a comprendere chi oggi ha una difficoltà di accoglienza rispetto all'altro nel nostro Paese. Io credo e lo ribadisco che la cooperazione, le piccole associazioni, l'idea di un'immigrazione, di un'integrazione che sia diffusa sui territori e quindi un'accoglienza diffusa sia la strada maestra. Perché lavorare sui piccoli numeri è molto importante, perché è un po' come le classi, si deve lavorare magari non su numeri enormi, ma su piccoli numeri per riuscire a dedicarsi maggiormente a integrare. Noi a maggio abbiamo avuto questo convegno a Chiusano dove si sono incontrati SPRAR del nord d'Italia. C'erano comuni e rappresentanti di associazioni che venivano dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte naturalmente, dove si trova appunto Chiusano e dalla Liguria. Quindi stiamo parlando di quella che io definirei una foresta che cresce. È vero, in questo momento si parla, è sulla bocca di tutti, la situazione di Riace. Però io vorrei mettere la luce, mettere in luce quelle che sono le tantissime, tantissimi progetti SPRAR che sono a spasso per l'Italia e che hanno dimostrato, numeri alla mano, di essere in grado di costruire integrazione, di costruire autonomia. Perché questi sono i due grandi obiettivi degli SPRAR. Da quello che è stato espresso dal decreto mi sembra che si vada verso un ridimensionamento degli SPRAR che è una contraddizione anche con quello che era stato dichiarato precedentemente. Io come sindaco del Comune di Latina ho un'esperienza assolutamente positiva sul modello degli SPRAR perché per dirlo in maniera molto semplice favorisce l'integrazione, favorisce l'accoglienza dell'integrazione. Mentre invece il ridimensionamento e il limitare... ...